carissimi ragazzi e ragazzi in ascolto sul radio buon consiglio a tutti ben ritrovati sulle frequenze della nostra carissima radio innanzitutto una santa pasqua a tutti voi sapete che durante i giorni dell'ottava la chiesa celebra una sola prolungatissima festa gli otto giorni di pasqua è come se fossero un solo giorno è il giorno nuovo della vittoria del signore sul peccato e sulla morte e quindi la festa comincia la domenica prosegue a tempo a tempo determinato certamente ma fino a domenica prossima senza alcuna sosta e senza alcuna pausa quindi la gioia che già noi figli di dio sempre caratterizza perché i figli di dio e di maria sono gioia sempre ovviamente in questi giorni ha una motivazione ulteriore per essere quanto mai viva e forte nei cuori di ciascuno di noi quindi in questo senso oggi certamente vivremo una puntata in questo clima clima che peraltro è particolarmente come dire favorito dall'argomento che abbiamo appena iniziato in cui oggi in cui oggi cominceremo a entrare diciamo nel vivo perché il primo dei sette sacramenti stiamo nella seconda puntata del nuovo ciclo di catechesi appunto dedicato ai sette sacramenti e riguarda il sacramento del battesimo voi sapete che la liturgia pasquale è eminentemente battesimale questa settimana si chiama settimana in albis perché anticamente i battesimi che venivano sovente amministrati la notte di pasqua quando riguardavano persone adulte prevedevano il fatto che si indossassero le vesti bianche appunto segno della rinascita battesimale per l'ottava di pasqua l'ottavo è il numero della risurrezione e dai neofiti quindi teneo battezzati questo perché la passo come ho avuto modo di dire in una delle omelie pasquali è proprio la partecipazione piena e integrale al mistero della passione morte e risurrezione di nostro signore gesù cristo e da di questo battesi e di questo sacramento che oggi ci accingeremo a parlare un altro piccola introduzione prima di entrare subito nel merito è questa che la chiesa ha affrontato sistematicamente come vedremo la tematica relativa ai sette sacramenti solo nel secondo millennio non nel primo soprattutto come vedremo nei concili di Firenze e nel concilio di Trento che entrambi hanno operato una grossa ecco sistematizzazione del materiale relativo ai sette sacramenti ovviamente come sempre c'è un motivo ecco perché nel primo secolo la chiesa si è trovata ad affrontare altre eresie rispetto a quelle che sarebbero poi venuti a manifestarsi più avanti e in particolare ha dovuto affrontare anzitutto le eresie sacramentali e cristologiche quindi eresie sacramentali e cristologiche che hanno diciamo coinvolto la chiesa fino diciamo quasi l'ottavo del nono secolo e dopo cristo no quindi non è stato non è stato un percorso breve ecco diciamo diciamo così del battesimo nel primo millennio perché adesso noi dovremo introdurre il discorso sul battesimo poi aprire una nuova piccola parentesi perché dovremo andare a vedere anche alcune formulazioni dogmatiche ecco che la chiesa specialmente nel concilio di trento ma non solo nel concilio di trento ha fatto sui sacramenti perché anzitutto bisogna bisogna difendere ribadire il il fatto che questi sacramenti sono sette e non non uno di più e non uno di meno in ogni caso e andando in ordine cronologico allora la questione relativamente precoce quindi che i sette sacramenti non sono stati un problema per la chiesa del primo millennio tutti meno che un punto appunto inerente al sacramento del battesimo che è quello dell'età del battesimo problema attualissimo e strettissimo quindi quando si devono battezzare gli esseri umani è corretto battezzare un bambino oppure bisogna aspettare che sia grande e che possa fare lui un atto di fede cosciente in gesù cristo e scegliere lui di credere e scegliere lui quindi la religione a cui deve appartenere questo è un tema ragazzi e ragazze carissimi come potete immaginare attualissimo perché sono in allarmante aumento due fenomeni anzi tre fenomeni diciamo così tutti problematici il primo è il più diffuso che ormai quasi generalizzato contro cui io sto combattendo una battaglia una santa battaglia certamente con le armi che viene a nostra disposizione che è la predicazione e la persuasione che è quello per coloro che scegliono di battezzare i bambini di procrastinare enormemente il momento del battesimo quindi i battesimi vengono fatti a due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove mesi prassi assolutamente insulsa sbagliata sconsigliatissima dalla tradizione della chiesa è fuoriera di danni però quantomeno in questo caso almeno il battesimo viene chiesto purtroppo c'è anche la moda per la verità ultimamente a quanto mi sembra leggermente in calo ecco ma c'è stato un periodo non molto tempo fa che c'era stato un picco di questa nuova moda per una malaugurata interpretazione dei diritti delle persone quindi il diritto di scegliere la propria religione tra l'altro sono state fatte anche battaglie legali e non è escluso perché c'è qualche organizzazione che anche in Italia si è mossa a livello legale nel senso di arrivare ad una definizione legislativa che proibisca ai genitori di portare i figli a essere battezzati perché questo sarebbe lesivo della libertà religiosa del soggetto quindi non è che sto parlando di cose campate in aria però c'è stato un periodo in cui andava di moda sotto lo specioso e apparentemente fondato e ragionevole pretesto del lasciare libero il bambino di scegliere poi quale religione avere di non battezzarli per niente i bambini quando sarà poi grande deciderà lui un discorso talmente insulso perché a questo punto un figlio avrebbe tutto quanto il diritto come si trova scritto nell'orrido libro di Oriana Fallaci orrido come dire per quanto riguarda il contenuto non certo per quanto riguarda lo stile perché questa donna era certamente una scrittrice nata lettera ad un bambino mai nato sapete questo libro è purtroppo un libro drammatico che rappresenterebbe un tentativo letterario di trovare una qualche giustificazione al delitto dell'aborto cosa che è assolutamente ingiustificabile ma tra le obiezioni di questa protagonista di questo libro che si immagina tutte le cose che potrebbe dirgli un bambino se lo fanno venire al mondo è ma chi ti ha chiesto di venire al mondo nessuno di noi ha chiesto di venire al mondo allora facciamo così dato che non esiste nessun essere umano che prima di essere concepito chiede di venire al mondo i figli non li facciamo più per niente perché è una violenza è una lesione di un diritto anche farlo venire alla vita perché io che ci sono potrei desiderare non essere mai stato e rimanere tranquillamente nel nulla da cui provengo e non essere venuto e in qualche modo essere come dire chiamato ad abitare il pianeta terra non essendo questo posto gradito adesso io che sono grande che vorrei dire una cosa di questo genere alla mia sensibilità capite? oppure se un genitore dovesse aspettare che un figlio gli chiede una cosa dico ah benissimo guarda prima di attaccarlo al seno per dargli da mangiare aspetta che un bambino ti chiede che ha fame altrimenti gli fai violenza attaccarlo per forza al seno per dargli da mangiare ti ha chiesto di mangiare per caso? no? e quindi se tu se non ti chiedo una cosa tu non gliela vuoi dare e quindi aspetta che ti chieda da mangiare prima di attaccarlo quindi capite come questa argomentazione cade subito ecco se uno rifletta un pochino poi c'è l'altra moda questa è tuttora bella attiva e vivente che è quella di chiedere di farsi sbattezzare c'è un'associazione in Italia la UAA la Unione degli Ate e degli Agnostici Razionalisti una cosa del genere che fornisce i come dire i desiderosi di tale procedura di tutta quanta l'assistenza burocratica e giuridica quindi spiegando come deve fare a chi deve scrivere letterina che la curi è obbligata a fare questa cosa per poter giungere alla bella risoluzione di poter essere secondo loro sbattezzato sbattezzato è una cosa assolutamente impossibile perché il battesimo non te lo toglie neanche domine Dio come sacramento come poi vedremo quando ne tratteremo ma è semplicemente una dichiarazione di volontà di non appartenenza alla religione cattolica di cui certamente l'autorità ecclesiastica prende atto annotando la margine del registro dei battezzanti il fatto è è come dire inquietante e e che lascia pensare non certamente per gli effetti che produce perché ripeto lo sbattezzo è assolutamente impossibile perché lo sacramento una volta che viene ricevuto non può essere tolto da nessuno dovrebbe fare un miracolo il padre eterno quindi bisogna ripetere una bella letterina al padre eterno e chiedere se è possibile che mi sbattezzi ammesso che il padre eterno se la lega una letterina del genere però è grave in ciò che questo atto significa perché significa una persona che ha in tale odio la chiesa tutto ciò che fa il cattolicesimo che chiede una cosa di questo genere facciamo rapidamente un ave maria perché sono le 17 prima di prima di procedere ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus e benedictus frutus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis peccatoribus nunc et in ora mortis nostre amen allora che cosa dice la chiesa riguardo il battesimo dei bambini oggi soffermiamoci da prima su questo punto allora 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 c'erano alcuni eretici che avevano cominciato a muovere obiezioni alla prassi di battezzare i bambini prassi che se ne dica in giro è relativamente antica d'accordo quindi non è affatto vero che il battesimo dei bambini è una cosa iniziata diciamo in tarda età è una cosa che la chiesa ha cominciato a fare appena possibile ovviamente appena i genitori si è diffusa diciamo così in un certo modo la fede cattolica tale che è ovvio che possono essere battezzati ordinariamente vengono battezzati i bambini di due genitori entrambi i credenti quindi non era così diffuso perché ancora il cristianesimo non era così capillarmente diffuso si era ancora in diciamo in tempo di di prima espansione della chiesa no? ecco ma quando era possibile questa cosa veniva immediatamente fatta allora il primo a esprimersi in questi termini fu Papa Siricio nel 385 d.C. quindi vedete che la data è abbastanza antica e scrisse queste parole desideriamo che i bambini che a motivo della loro età non possono ancora parlare o coloro che per qualsiasi necessità hanno bisogno dell'acqua del santo battesimo vengano a soccorsi il più presto possibile per timore che se uno lasciasse questo mondo privo del regno e della vita per il fatto che gli è stata rifiutata la sorgente della nuova salvezza da lui desiderata questo conduca a rovinare le nostre anime quindi parla di bambini e di coloro che è necessario che siano battezzati presumibilmente fa riferimento ad adulti magari catecumeni non ancora battezzati in pericolo di vita o scene del genere e il Papa afferma chiaramente che se tu non lo battezzi d'accordo questo condurrà questo condurrà a rovina quell'anima cioè senza il battesimo come del resto Gesù lo dice chiarissimamente nel santo vangelo non è possibile avere la certezza morale della salvezza della persona chi crederà e sarà battezzato sarà salvo chi non crederà sarà condannato dice chiaramente Gesù e circa l'importanza del battesimo la finale del vangelo di san matteo che sentiremo in questi giorni durante la messa è uno dei tanti racconti delle apparizioni andate in tutto il mondo e annunziate il vangelo di ogni creatura e battezzatele nel nome del padre del figlio e dello spirito santo insegnandolo ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato quindi non è un optional capite c'è una cosa che se c'è bene se non c'è pace insomma no perché tutto sommato no non è tutto sommato d'accordo questo riguarda certamente gli adulti ma riguarda anche i bambini perché prima del battesimo si nasce ma chiedete il peccato originale il peccato originale che inerisce a ciascuna anima come proprio un peccato trasmesso anche se non commesso ma che come dire appartiene alla persona come se l'avesse commesso lui d'accordo priva della grazia di Dio della grazia santificante un bambino neonato non ha la grazia santificante e Gesù nel vangelo di san Giovanni afferma chiaramente se uno non rinasce da acqua e da spirito santo non può entrare nel regno di Dio 3-5 poco più avanti non può vedere il regno di Dio non può se uno rinasce da acqua e da spirito santo e da acqua e da spirito santo si rinasce nel battesimo quindi questa affermazione è molto più importante di quanto possa sembrare a prima vista per la sua appunto estrema antichità e testimoni non ha prassi già molto diffusa nel 385 di un battesimo dei bambini considerato necessario e perentoriamente necessario e grazie chiaramente alla origine evangelica di questa dottrina che abbiamo appena detto per la salvezza ok? il pontefice si riscio in questo tempo in questo senso non fa altro che confermare ciò che da sempre si era sentito e praticato nella coscienza della chiesa dopo questa affermazione si ha un certo tempo di silenzio ma su questa questione sul tema del battesimo del bambino prima dei grandi concili di Firenze che vedremo siamo nel XV secolo e di Trento che è il più importante di tutti per quanto riguarda la materia sacramentale XVI secolo ebbe intervenire Papa Innocenzo III nel 1201 per chi non lo sapesse Papa Innocenzo III o per chi non lo ricordasse siamo ai tempi di San Francesco nel 1201 quindi perché Papa Innocenzo III fu colui che approvò accolse San Francesco a Roma pellegrino e gli approvò la regola allora che succede qui? rispondendo al vescovo di Arle Imberto che chiedeva al pontefici indicazioni riguardo alle disposizioni necessarie per accedere al sacramento del battesimo nonché chiarimenti circa i suoi effetti il Papa ebbe a rispondere queste parole sentite quanto sono attuali eh? alcuni infatti affermano che è inutile dare il battesimo ai bambini noi rispondiamo interessante anche la cultura biblica che c'è dietro a questa affermazione che il battesimo sentite sentite è succeduto alla circoncisione quindi il battesimo è per il popolo della nuova alleanza cioè i seguaci di Gesù cioè la chiesa di Cristo ciò che la circoncisione era per il popolo dell'antica alleanza cioè per gli ebrei figli di Abramo perciò come l'anima di colui che era stato circonciso non veniva eliminata dal suo popolo così anche colui che è rinato dall'acqua e dallo Spirito Santo ottiene l'ingresso nel regno dei cieli prosegue prosegue occorre poi distinguere un duplice peccato quello originale e quello attuale l'originale si contrae senza consenso e l'attuale si commette con consenso perciò l'originale che viene contratto senza consenso oh guardate bene viene anche rimesso senza consenso per la forza del sacramento l'attuale invece che viene che si contrae con consenso non viene affatto rimesso senza consenso la pena del peccato originale è la privazione della visione di Dio invece la pena del peccato attuale è il supplizio eterno della Genna guardate a mio avviso la portata di questa affermazione è una una bomba atomica da 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 fare esplodere adesso in più posti possibili una bomba atomica allora è un discorso brevissimo e magistrale allora tu col peccato originale non hai scelto di nascerci il peccato originale dice giustamente innocenzo terzo tu te lo ritrovi appena vieni concepito non c'è infatti c'è meglio che colpa ciò di aver commesso nessuna tu non hai nessuna colpa ma te lo ritrovi addosso perché viene trasmesso nell'istante stesso del concepimento allora chi obietta dice ma perché devi battezzare un bambino che non ha espresso il proprio consenso ma il bambino non ha espresso il proprio consenso al peccato originale perché il peccato originale non è un peccato mortale che viene commesso con piena avvertenza e deliberato consenso tu te lo ritrovi addosso e questo peccato anche se te lo ritrovi addosso non ha come conseguenza quella estrema del peccato volontario grave che è la dannazione la genna ma comunque come conseguenza la privazione della visione beatifica quello che la tradizione della chiesa avrebbe chiamato il limbo che oggi molti affermano che non esiste e che non è affatto vero che non esista d'accordo quindi se tu non vieni battezzato se muori certamente all'inferno non ci vai perché non puoi essere dannato per cose che tu non hai fatto perché Dio non è mica così ingiusto ma purtroppo essendo privo della grazia santificante e come scrive San Tommaso vedere Dio non è un diritto delle persone non è affatto un diritto delle persone quindi essere privo della visione beatifica vuol dire semplicemente che tu non hai ciò che non ti spetta di avere perché la visione beatifica è un dono gratuito che Dio fa alla creatura munita della grazia santificante la quale grazia santificante che è la partecipazione alla vita soprannaturale di Dio è un dono gratuito di Dio che nessuno può pretendere vedete vedete come dentro la legge di Dio è tutto perfettamente armonioso e logico la vita è un dono di Dio per questo che anche oggi tutte quante le forzature della vita a Oglia sfiatasse il Ton John con Dolce Gabbana che si è arrabbiato perché loro avrebbero fatto un sopruso che non si possono chiedere i figli per i gay cosa assolutamente normale ma tutte quante le forzature della vita fatte da persone omosessuali o da persone non omosessuali perché la fecondazione artificiale che la facciano anche persone eterosessuali sempre peccato grave rimane al cospetto di Dio lo stesso non è una cosa che dipende dal colore del sesso o dal tipo del sesso perché? perché è una forzatura la vita è un dono Dio la dà a chi vuole se vuole quando vuole quanto vuole e come vuole l'uomo non deve fare altro che disporsi se Dio vuole a ricevere il dono della vita e a essere collaboratore di Dio nel darla quindi a procreare similmente Dio non è obbligato a dare la grazia di Dio a nessuno questo ci dobbiamo togliere dalla 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 testa in paradiso in paradiso non ha il diritto il diritto di andarci sapete chi? nessuno nessuno ma con la Madonna e la Madonna che mi sta ascoltando sottoscrive quello che dico perché la Madonna va in paradiso perché è la piena di grazia e la Madonna è la piena di grazia per puro dono di Dio ecco perché la Chiesa ha sempre tanto insistito anche se poi luterani come vedremo nel corso di questo ciclo di Catechesi parlando di vari sacramenti l'hanno travisato sulla gratuità della salvezza gratuità della salvezza che non vuol dire che quando poi sei grande tu poi fai quello che ti pare e Dio come se fosse uno sciocco qualunque cosa fai va bene lo stesso e fa finta di niente di aver dimenticato i dieci comandamenti o qualunque cosa fai ti perdona sempre comunque senza alcuna condizione questo non è affatto vero questo qui quello vedremo sono di certamente don Leonardo vedremo le affermazioni sanzionate da scomunica del concilio di Trento riguardo al sacramento della confessione ma comunque la salvezza è un atto gratuito quello che stiamo celebrando in questi giorni cioè ma che qualcuno di voi si era mai sognato poteva pretendere per caso o anche solo soltanamente sognarsi o immaginarsi che il figlio di Dio si facesse uomo ah oh il figlio di Dio si facesse uomo ma non solo si facesse uomo che per riaprirmi le porte del paradiso che io per colpa mia avevo perso perché Adamo non gli era ordinato nessuno di fare quello che ha fatto a lui e alla sua compare a Eva dovesse andare a patire quello che ha patito ma stiamo scherzando stiamo questa è una cosa dinanzi alla quale bisogna semplicemente prostrarsi con la faccia a terra e stare a ringraziare vita natural durante e non come fa qualcuno disprezzare i sacramenti e andare a Mesa a Pasqua soltanto perché fa un favore al Padre Eterno perché almeno a Natale a Pasqua bisogna andarci chiaramente chi fa questo non si rende conto di quello che fa e di quanto è grave quello che fa ma lo è anche se non si rende conto quello è un dono gratuito che Gesù ha fatto e che ha messo a nostra disposizione dono che chiaramente obbliga gravissimamente i destinatari di questo dono a disporsi ad accoglierlo e ad accoglierlo come Gesù ha voluto quindi ricevendo liberamente ma volontariamente il battesimo e poi vivendo ricevendo con frutto e frequentemente i sacramenti che come vedremo il battesimo lo fanno come dire continuare a vivere nel corso del tempo che sono la penitenza nella sua dimensione diciamo così negativa di rimozione del peccato e l'eucaristia che ha la dimensione positiva dell'accrescimento della vita divina della grazia e noi sono i due sacramenti non a caso che si possono ripetere in continuazione per mezzo dei quali il lavacro battesimale che si riceve una volta sola continua perennemente a vivere nel corso della storia è stupendo questa cosa che scrive Innocenzo III meravigliosa fantastica e colloca anche giustamente qui c'è tutto quanto io ci ho fatto la tesi dottorale su questo su questo argomento il sacramento del battesimo in relazione tipologica con la circoncisione tu appartenevi al popolo ebraico attraverso un segno guarda caso qui rimando alle catechesi che ho fatto forse ne riparleremo sulla possibile dinamica del peccato originale il segno scelto come prefigurazione del battesimo è la circoncisione io spero che chi mi ascolta sappia cosa è la circoncisione è un'incisione fatta perdonatemi sull'organo genitale maschile cruenta e visibile domando a voi ma scusate tra tante prefigurazioni non si poteva fare nell'antico testamento con la prefigurazione del battesimo di Gesù per esempio il battesimo di San Giovanni Battista il battesimo di San Giovanni Battista non era un sacramento era un simbolo perché tu andai a battezzarti da San Giovanni Battista facendo cosa? confessando i tuoi peccati e ricevendo un po' come fanno gli hindù nel gange cercate di capire quello che sto dicendo ti immergevi nell'acqua come espressione formale esteriore della tua coscienza di essere peccatore invocando da Dio la purificazione ma non era un sacramento il battesimo di San Giovanni Battista sarebbe stato come dire apparentemente molto più logico d'accordo istituire come prefigurazione del battesimo quindi del sacramento della nuova alleanza della porta di tutti i sacramenti perché col battesimo si diventa cristiani ed è l'unico modo per accedere a tutti gli altri sette sacramenti sarebbe stato come dire più logico fare una sorta di battesimo simbolico giusto in modo tale che poi dicevi ah nell'antico testamento non era un sacramento perché ancora Gesù non era morto in croce quindi la grazia ancora non era realmente scesa dall'umanità nel nuovo testamento diventa un sacramento perché Gesù ha compiuto la retenzione e quindi abbiamo la pienezza che nell'antico testamento non c'era eppure la prefigurazione del battesimo non era affatto il battesimo di San Giovanni Battista ma era la circoncisione che non c'entra niente non c'entra cosa c'entra? come dire tagliare il prepuzio di un uomo con il battesimo d'acqua c'entra soltanto se io accetto la dottrina non ufficiale nella chiesa cattolica e non sottoscritta dal magistero questo ci tengo a dirla ma affermata da più di qualche padre della chiesa a cui non lo davano addirittura per scontato tipo San Giovanni Crisostomo che il peccato originale sarebbe stato il compimento del primo atto sessuale nel senso che la prova a cui gli uomini sarebbero stati sottoposti era il non violare il segreto della vita e che quindi gli esseri umani maschili e femminili avrebbero dovuto nascere in maniera diversa dalla riproduzione sessuata che noi conosciamo riproduzione sessuata che è stata attivata in maniera tra l'altro irreversibile irrevocabile solo dopo che Eva tentata e avendo visto in qualche modo una sollecitudine in questo senso si è unita ad Adamo quindi compiendo il primo atto sessuale e quindi violando il volere di Dio e non ne può essere un caso nemmeno che il peccato originale si trasmette e questo la chiesa lo insegna autorevolmente come vedremo al momento stesso del concepimento cioè quando due gameti diventano uno zigote avviene una operazione diciamo così contestuale cioè creazione dell'anima da parte di Dio che nel tempo nello spazio di un nanosecondo esce da lui e entra dentro lo zigote che in quel momento stesso contrae la macchia d'origine ed ecco perché il salmo 50 dice nel peccato mi ha concepito mia madre ed ecco perché è stato necessario istituire un sacramento questo poi lo vedremo a suo tempo cioè il sacramento del matrimonio che il sacramento del matrimonio rende lecito l'attività sessuale solo quella legata alla procreazione badate bene solo quella è lecita e fuori del sacramento del matrimonio quella attività pur essendo naturalmente ora ordinata alla vita è sempre peccato mortale cioè un figlio nato fuori dal matrimonio anche se oggi non ci fa caso più nessuno è peccato mortale e non è affatto la stessa cosa da un punto di vista di benedizione di Dio e di grazia santificante che un figlio sia nato dentro il sacramento del matrimonio o fuori del sacramento del matrimonio questo non vuol dire ledere nessun diritto da parte di nessuno capite ma questa verità di fede non possiamo fare finta che non esista perché non è affatto la stessa cosa fare come dire compiere gli atti coniugali dentro il matrimonio o fuori o prima del matrimonio non lo è questo lo insegna la chiesa non è tradizione e pia tradizione quindi uno può anche non essere d'accordo con questa visione della colpa d'origine e ripeto si è liberi di non esserlo perché non è un dato sottoscritto magisterialmente dalla chiesa però è un dato che a suo favore non pochi autorevoli esponenti della tradizione San Giovanni Crisostomo è stato uno dei più grandi teologi in assoluto della patristica orientale un'autorità lo chiamavano Crisostomo in greco significa Crisostoma bocca d'oro quindi perché quando apriva bocca ti lasciava bocca aperta ecco per quello che che diceva confermata tra l'altro questa dottrina da una serie di rivelazioni private non una soltanto d'accordo e anche dalla posizione di illustri teologi anche importantissimi del medioevo e del rinascimento quindi non è una cosa ballerina e campata per aria d'accordo addirittura alcuni padri della chiesa se uno legge gli scritti cioè danno questa cosa come se fosse scontata cioè lo sappiamo che il peccato reggine è stato questo e quindi ci muoviamo agendo di conseguenze allora questa affermazioncina questa la trovate sul Densinger non so se ho detto nella puntata precedente perché purtroppo io con la mia capoccia quando si nomina il Densinger il Densinger è un librone l'ho fatto pure vedere una volta in video durante una conferenza una catechesi che si chiama anche declaratio fidei et morum d'accordo cioè dichiarazione declaraciones adesso non mi ricordo de fide et moribus esattamente c'è l'ablativo cioè dichiarazioni sulla fede e sui costumi cioè voi sapete che il Magistero della Chiesa ha come ambito di competenza non qualunque cosa quindi per capirci la Chiesa parla autorevolmente per bocca del Papa o di un concilio ecumenico e basta mai per bocca di un singolo vescovo questo ricordatelo solo quando si esprime sulla fede sui costumi con la volontà di definire come autentica una dottrina di condannare come eretica un'altra dottrina oppure di risolvere una questione controversa circa un dato di fede e di morale oppure la forma più alta volendo formulare un dogma o un articolo di fede non impugnabile basta ci state attenti quando si parla di Chiesa si parla di Chiesa solo in questo senso una decisione di tipo disciplinare io faccio sempre lo stesso esempio perdonatemi se è sempre lo stesso ma è un tema anche questo di stessa attualità concedere di prendere la comunione in mano non è corretto dire la Chiesa consente di prendere la comunione in mano non lo è e vi parlo da dottore in teologia dogmatica perché la decisione di concedere come indulto quindi come un provvedimento come dire di clemenza questa prassi è una decisione di tipo disciplinare disciplinare è cosa diversa da magisteriale disciplinare vuol dire che la legge umana della Chiesa umana vuol dire non divina umana vuol dire di per se stessa fallibile quindi che certamente una volta che è promulgata deve essere rispettata ma può tranquillamente essere criticata d'accordo e può tranquillamente anche essere in qualche modo come quando c'è una legge dello 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 Stato no che uno non è d'accordo dice no questa legge deve essere cambiata perché non sta producendo buoni frutti quindi è facoltà di qualunque fedele e anche di qualche povero prete dire guardate che questa legge a mio modestissimo avviso sta producendo da anni sta producendo e siccome non c'è niente che chiama in causa non è che i vescovi che avessero fatto questa cosa se dopo la la revochi sono scomunicati no non sono niente d'accordo hanno pensato di fare bene magari in buona fede alla luce di alcune cose che sono successe sul piano fratico è meglio cambiare questa legge ma questa legge si può essere tranquillamente cambiata le decisioni disciplinari capite io per esempio porto la talare poi porto la talare perché la talare è l'abito ecclesiastico tuttora oggi che se ne pensi quello che è cambiato è che le conferenze episcopali hanno dato il permesso ai sacerdoti e non sempre senza condizioni comunque il permesso c'è di indossare il clergyman d'accordo però un sacerdote che non indossi il clergyman ecco viola la legge ecclesiastica tu mi dirai ma la legge ecclesiastica non è diritto divino certamente d'accordo però tu in questo momento stai violando la legge ecclesiastica e chi porta la talare non può essere comunque come dire bollato come retrogrado perché tuttora adesso la legge ecclesiastica dice di portarla se un giorno poi dovesse dire la legge della chiesa al prete è consentita la facoltà di andare vestito come un borghese qualunque per carità di Dio d'accordo sarebbe io potrei non essere d'accordo potrei combattere questa legge potrei dire secondo me non mi sembro opportuno perché una cosa di questo genere non mette in risalto la sacralità di un sacerdote non gli fa comprendere neanche a lui l'altezza del suo ministero e tante altre motivazioni però questo per farvi capire che io l'ho sempre detto in tantissime catechesi prima di parlare di chiesa in senso stretto bisogna pensarci 50 volte d'accordo perché la chiesa è santa capite la chiesa è santa è una è cattolica è apostolica io sono specializzato in ecclesiologia non vorrei adesso mancare insomma e fare il pedante quindi quando io parlo di chiesa parlo di una realtà santa nella santità della chiesa è compresa l'indefettibilità cioè l'assenza di difetto sia da un punto di vista morale quindi l'assenza di peccato che non deve stupirci perché la chiesa non ha peccato come realtà soprannaturale non significa questo che i figli della chiesa siano senza peccato o impeccabili capite così la chiesa santa è infallibile non si sbaglia quando definisce una cosa di fede o di morale ma solo quella però capite quindi le cose che esulano da questo le scelte pastorali dice ma le linee come dire di conduzione che per esempio danno gli uomini di chiesi pastori della chiesa in una dioce se un vescovo decide il mio piano pastorale è questo d'accordo chiaramente i predi che stanno lì devono come dire allinearsi a quel piano pastorale ma quel piano pastorale non è una verità di fede potrebbe essere un piano pastorale discutibile potrebbe essere un piano pastorale che non darà tutti questi grandi frutti potrebbe addirittura essere un piano pastorale sbagliato d'accordo questo non toglie che se un sacerdote è incardinato in una dioce se capita quel vescovo quel sacerdote si metterà in sintonia col progetto pastorale del vescovo d'accordo o non d'accordo che sia d'accordo però se non fosse d'accordo con quel progetto pastorale certamente dovrà essere attento a non andarla a sbandirare in giro per non screditare il proprio pastore però non è chi dice vado contro la chiesa mi devo andare a confessare sono scomunicato no ecco così come se c'è una legge disciplinare della chiesa su cui io non è d'accordo è padronissimo di 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 ma posso dire cioè adesso Giovanni Paolo II l'hanno fatto santo d'accordo ma se io personalmente come prete su alcune scelte che ha fatto Giovanni Paolo II ho delle riserve tuttora adesso ecco capite e quindi parlando di Giovanni Paolo II di qua questa cosa secondo me è stata una grande cosa che ha fatto Giovanni Paolo II adesso ne dico uno tanto per dire qualcuno ma su quest'altra scelta che ha fatto io con tutto il rispetto per la figura del Papa e per la sua acclamata santità non la condivido d'accordo se si tratta di una scelta pastorale d'accordo per esempio fare la giornata mondiale della gioventù è una cosa buona o è una cosa non buona c'è chi dice che è una cosa buona e c'è chi dice che è soltanto un un convocare masse di giovani senza nessun costrutto perché tanto questi non si convertono nessuno per dirne una no una persona che abbia delle una un sacerdote che abbia delle riserve io no eh io mi sono convertito nella giornata mondiale della gioventù sto dicendo apposta cose in cui io non c'entro niente in modo tale che non si capisca non faccio discorso di parte no ma se io dicessi su questa cosa ho delle riserve non è che mi devi andare a raccontare come ti permetti hai parlato male del papa hai gettato fang su giovani paolo secondo hai criticato quello che ha fatto ragazzi il papa è infallibile quando parla ex cattedra d'accordo raramente quando scrive delle cose tipo queste che ha scritto in ocenso terzo ma non in tutte le cose che fa in qualunque gesto che compie capite è rispettabilissimo e da onorare in tutte le cose che fa però il papa è il capo della chiesa cattolica visibile in questo mondo ed è rappresentante di cristo ma non è che in ogni azione che fa chiama in causa tutta la chiesa non è così e questo se qualcuno pensa questo e quando sente queste parole dice oddio ma allora il papa non è così importante come l'ha immaginato lo pensi d'accordo il papa per carità è importantissimo non esiste un potere grande in tutto l'universo non soltanto sul pianeta terra ma zardo a dire quanto il potere del successore di pietro perché è il papa il vicario di cristo in terra il successore di san pietro e il capo della chiesa cattolica non esiste nessuna autorità al mondo che sia al di sopra di lui nessuna né umana ovviamente né re né capi adesso possono avere tutti gli stati laici che vogliono d'accordo potrebbero anche come ha fatto Napoleone ingabbiarli i due papi che hanno passato i guai sia il più sesto che il più settimo con Napoleone buona parte ma quello che hanno fatto che quello che ha fatto il buon Napoleone e dico buon comeufemismo è stato un atto illegittimo perché nessuno può mettere in galera il papa piaccia o non piaccia d'accordo e se mi chiamano papista per questo però se c'è una scelta del papa non condivisibile del papa del presente o del papa del passato si può dire tranquillamente si può dire si può discutere d'accordo se si tratta attenzione di una scelta pastorale di una linea che ha dato alla chiesa o di alcune norme che ha concesso di tipo disciplinare d'accordo vi faccio un altro esempio di Giovanni Paolo II Giovanni Paolo II per esempio investì a suo tempo io c'ero lì ve lo dico subito nel 1998 a Pentecoste io ero a Piazza San Pietro come dire all'interno di un movimento ecclesiale quando Giovanni Paolo II radunò tutti i movimenti ecclesiali lui per esempio ci credeva tantissimo nei movimenti ecclesiali lui pensava che i movimenti ecclesiali fossero la primavera e la salvezza della chiesa d'accordo io che ho fatto parte per tanti anni di un movimento ecclesiale che preferisco non nominare oggi come oggi su questa visione così solare e ottimistica dei movimenti ecclesiali ho qualche riserva d'accordo ma non per questo non mi sento cioè c'ero d'accordo lì ci ho creduto proprio per la mia esperienza maturata dal di dentro andando avanti con il tempo e con gli anni con tante cose che ho visto e maturato adesso ho mutato posizione ci credo un pochino di meno anche per questo devo andarmi a confessare cioè non è che combatti i movimenti ecclesiali o che pure vado a dire che devono essere cancellati dalla faccia della terra personalmente ho delle riserve d'accordo ma che se vogliono fare il loro apostolato e ci hanno la benedizione attenzione anche qui delle autorità della chiesa e delle leggi ecclesiastiche perché anche il riconoscimento di un movimento giuridico è un atto legislativo della chiesa non è impegnata all'infallibilità di esse voi sapete che quando fu eletto Bergoglio al soglio di Pietro qualcuno gli disse che doveva chiamarsi con il nome del successore di Clemente XIV lo sapete perché? perché Clemente XIV audite audite sciolse la compagnia dei gesuiti vi rendete conto che significa? cioè la compagnia dei gesuiti adesso anche qui ogni congregazione religiosa è poi soggetta nel corso del tempo a critiche tutto quello che volete ma la compagnia di Gesù sicuramente nel XVI secolo almeno e almeno per qualche secolo adesso poi non parliamo è un momento particolare in cui sotto vari punti di vista quasi tutte le congregazioni religiose hanno le proprie rogne da pelarsi perdonatemi l'espressione ma dopo il concilio di Trento i gesuiti la chiesa cattolica l'hanno salvata l'hanno tenuta in piedi questo è un giudizio storico indiscutibile quindi altro che riconosciuti dalla chiesa il fondatore era santo Clemente XIV li ha sciolti capite? li ha sciolti e sono stati per un certo periodo di sciolti allora se il riconoscimento di una congregazione religiosa come erano i gesuiti fosse un atto infallibile e magisteriale nessun papa dopo chi li ha riconosciuti avrebbe potuto di scioglierli e invece Clemente XIV li ha sciolti grazie a Dio i successori di Clemente XIV li hanno poi come dire riabilitati capite? ma questo per farvi capire come anche un gesto del genere ecco bisogna fare attenzione all'uso proprio dei termini in modo tale che non si resti poi scandalizzati né in positivo quindi pensando che la chiesa sia intervenuta dove non c'è nessuna implicazione dell'autorità della chiesa in quanto sposo di Cristo e né poi scandalizzandosi come magari c'è stata qualche decisione avventata o che si rivela oggettivamente proprio alla luce dei fatti poi per consenso unanime sbagliata e una persona va in crisi allora nella chiesa non ci credo più ma continui a crederci tranquillamente perché lì con quella cosa lì la chiesa in quanto non c'entra niente è una decisione sbagliata di un povero uomo di chiesa che anche se sta molto in alto non cessa di essere un uomo perché se non c'è l'assistenza garantita dello Spirito Santo che c'è in casi rarissimi quella persona è fallibile ed è peccabile perché solo Gesù Cristo è sempre comunque infallibile e impeccabile spero di essere stato chiaro comunque qui stiamo parlando di un intervento quindi quando parlo di dancing per questo ho detto queste cose qui ci sono le dichiarazioni di fede e di morale quindi degli ambiti propri di competenza del magistero della chiesa in cui la chiesa attraverso gli organi a ciò deputati che sono ripeto il Papa e i concili ecumenici ha stabilito alcune questioni e mentre sulle altre questioni si parla su queste questioni non si parla io su queste questioni non parlo mai lascio parlare e quando parlo con estrema autorità e con estrema autorevolezza questo lo dico per quello che lo dico anche ai miei fedeli lo faccio sempre quando so di avere alle spalle questo magistero della chiesa d'accordo per cui tu puoi anche contestare ma non contesti me stai fuori della comunione con la chiesa cattolica perché vedremo che le affermazioni pesanti d'accordo con cui la chiesa ha difeso la sana dottrina sono state accompagnate fino a 50 anni fa solo nell'ultimo concilio questo non è successo ma per 2000 anni è successo dagli anatematismi cosa sono gli anatematismi anatema vuol dire scomunicato etimologicamente cioè dopo aver formulato e lo vedremo già dalla prossima volta ecco sui canoni sui sette sacramenti del concilio di Trento cioè dopo aver formulato la dottrina cioè ti dico guarda fratello caro Dio secondo quello che ci ha rivelato le cose stanno così così e così i sacramenti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 il battesimo serve a questo la chiesima serve a questo la comunione a questo d'accordo e quindi questi sono i sacramenti della nuova alleanza questi sacramenti sono necessari alla salvezza d'accordo e chi volontariamente li rifiuta o ne è fuori non potrà salvarsi sto semplificando in maniera grossolana detto questo tutte quante le definizioni chiudevano con gli anatematismi ve ne leggerò qualcuno perché li conoscerò la prossima volta allora chi afferma che per esempio il battesimo non è necessario alla salvezza sia anatema c'è proprio scritto così sia anatema vuol dire scomunicato scomunicato da intendere con scomunica non come oddio il papa ma scomunicato non in questo senso ma ti sta dicendo se tu aderisci all'opinione contraria sei fuori della comunione con la chiesa tu sei auto escluso dalla comunione con la chiesa quindi uno si deve preoccupare dice ah ma tu vai contro la chiesa non ti preoccupare che vai contro la chiesa solo quando solo quando aderisci a qualcuna delle dottrine che la chiesa ha dichiarato essere fuori dalla comunione con lei e io vi posso dire e perdonatemi se mi permetto di dire questo però insomma sono anni che sto in mezzo agli ambienti di chiesa ho frequentato università ecclesiastiche ambienti di chiesa eccetera eccetera che oggi con estrema leggerezza vi posso dire si fanno affermazioni contrarie al magistero della chiesa alcuna per ignoranza altre insomma con l'ignoranza che non è ammissibile in una persona che ci abbia un abito per esempio non è ammissibile perché tu non non puoi ignorare una cosa che fa parte del deposito della fede e della morale quindi senza che questo significhi andare incontro a chissà che chissà che cosa e viceversa magari uno esprime una critica legittima su un problema su una situazione pastorale su una legge su una disciplina ecclesiastica non vincolante e viene messa in croce cioè questo è un altro è un altro segno del disordine dei tempi che stiamo vivendo è assolutamente inammissibile per questo che io sottolineo ribadisco continuo a parlare di questo non si può non è possibile non è possibile perché anche su questi i fedeli i fedeli sono tutti quanti giustificabili perché i fedeli non hanno fatti i corsi di teologia dogmatica ecco però gli uomini di chiesa no dovrebbero fare una formazione fatta bene sotto questo punto di vista d'accordo per cui non fare in modo che anche poi insomma cioè anche sui social network a volte succedono questioni cose quello parla contro la chiesa quello ha detto quell'altro questo quest'altro questo qua questo là la chiesa riconosciuta cioè con una improprietà di linguaggio ma non solo di linguaggio perché il linguaggio noi parliamo esprimendo il nostro pensiero e dietro il pensiero c'è una realtà c'è una formazione che noi abbiamo quindi quando uno parla in maniera impropria o comunemente come si dice avvanvera vuol dire che c'è il pensiero avvanvera vuol dire che non è stato ben formato o che si è volontariamente autodeformato ma c'è qualcosa che non va a monte quindi concludendo vorrei spendere qualche altra parola in questi ultimi due minuti chiudendo con l'affermazione di Innocenzo III perché la portata di queste affermazioni è straordinariamente rilevante battezzare un bambino non è affatto inutile come qualcuno pensa e farlo il prima possibile è sommamente raccomandabile perché se un bambino dovesse morire prima di essere battezzato in paradiso non ci va a quanto affermano i papi perché senza il battesimo il bambino qualora dovesse morire va incontro alla privazione della visione di Dio non va all'inferno ma Dio non lo vede ossia non può come afferma espressamente Gesù e con lui Innocenzo III entrare nel regno di Dio col battesimo infatti non si realizzano soltanto i limitati effetti dell'ebraica circoncisione che causava l'ingresso diciamo così nel popolo eletto se uno non nasceva da sangue ebraico vi ricordate quelli che dicono gli atti degli apostoli del nuovo testamento quelli venuti dalla circoncisione oppure i proseliti i proseliti erano i pagani che volevano diventare cristiani e dovevano essere circoncisi tutti altrimenti non facevi parte del popolo dell'antica alleanza quindi non si realizzano solo i limitati effetti della circoncisione che ne era la prefigurazione storica tipologica ma viene realmente nel battesimo infusa la grazia santificante realizzandosi quella rinascita dall'acqua e dallo spirito santo di cui parla Gesù nel Vangelo inoltre non si realizza nessuna violazione della libertà della persona né si amministra invalidamente un sacramento mancando il consenso del diretto interessato questo lo spiega benissimo nel senso terzo perché? perché è una colpa d'origine che viene trasmessa senza il consenso della creatura viene tolta con un sacramento che non necessita del consenso della creatura punto e come sarebbe assurdo parlare di libertà violata per il fatto di essere stati macchiati della colpa d'origine ah io mi arrabbio che sono che nasco perché io che colpa c'ho non voglio il peccato originale ti arrabbio non ti arrabbio col peccato originale nasci quindi violazione della tua libertà chiamala come ti pare ma tanto così nasci c'è niente da fare non c'è niente da fare d'accordo a meno che Dio non faccia mai il miracolo l'ha fatto una volta sola per far nascere la madonna e perché c'era dei buoni motivi ma non lo fa più questo miracolo qui ecco allo stesso modo lo sarebbe nel caso vi si ponga con questo sacramento rimedio quindi se non ha senso parlare di violazione della libertà perché nasco col peccato originale non ha senso parlare di violazione della libertà se ti regalo la possibilità di essere liberato da questo peccato sarebbe come se per curare un bambino affetto da malformazione pensate congenita bisognasse c'è la malformazione congenita deve essere operato ma voi sapete che se tu sei un adulto e vai in ospedale prima di sottoporti a un'operazione tu devi firmare una carta dove tu autorizzi i medici a metterti le mani addosso e liberi da ogni responsabilità allora che dobbiamo aspettare che il bambino impara a scrivere e farlo morire prima di fargli l'operazione ma capite che sarebbe assurdo un discorso del genere quindi è seldo una colpa d'origine una infermità mortale dell'anima ben peggiore di un tumore che avresse preso il corpo non solo è lecito opportuno ma è doveroso intervenire quanto prima è guai ai genitori che non lo fanno intervenire quanto prima il catechismo di San Pio X avrebbe esplicitamente detto il più presto possibile non oltre il decimo giorno di vita pensate un po' se si possa fare come oggi a un 1, 2, 3, 4, 5, 10 mesi perché essa sia sanata e guarita e ne siano scongiurate le pestifere nefaste conseguenze questo è quello che la Chiesa insegna a proposito dell'urgenza e della necessità di questo che è il primo dei sette sacramenti ci vediamo se ti vuole alla prossima volta vi do la mia benedizione ci sentiamo o meglio se ti vuole alla prossima volta Ave Maria Grazie